Il 16, 17 e 18 settembre i Briganti fanno tappa a Montbaroccio e Cartoceto per Marche Storie, il festival della regione dedicato a racconti e leggende dai borghi storici. Una tre giorni sulla banda Grossi, tra spettacoli, mostre, concerti, percorsi verdi, aperitivi e cene tematiche. Scopri il covo dei Briganti, visita marchestorie.it e consulta il programma.